Per la prima volta è stata prevista la figura del commissario alla ricostruzione, ma il sistema commissariale funziona bene soltanto durante l'emergenza. Nelle fasi successive considero fondamentale affidare ai comuni la regia della ricostruzione. Le parole chiare e nette sono quelle che Giuseppe Zamberletti rilasciò nel novembre del 2011, tre anni dopo il sisma dell'Aquila, in un'intervista quotidiana Il Centro a proposito della ricostruzione post-sisma in Abruzzo. Il padre della protezione civile, colui che nella veste di ministro e parlamentare della democrazia cristiana, morto a Varese tre giorni fa, ha legato il suo nome ai soccorsi e alla ricostruzione dopo alcune calamità naturali in Italia, considerava un'anomalia la presenza di un commissario post-sisma. Per Zamberletti, che aveva seguito in prima persona soprattutto il terremoto del Friuli del 1976 e quelli in Irpini e Basilicata del 1980, non occorrevano superpoteri per risolvere subito i problemi. Ecco come gli esperti dell'Università dell'Aquila hanno visto crescere e cambiare negli anni la complessa macchina della protezione civile, proprio grazie a Giuseppe Zamberletti. Mentre frequentavo l'università ci fu il famoso evento del terremoto dell'Irpinia e quindi partimmo tutti, giovani e meno giovani, guidati appunto dai nostri professori, per eseguire i primi studi di microzonazione. Sì, prima, adesso se guardiamo indietro le varie tragedie naturali e non che hanno colpito l'Italia, mi riferisco ad esempio al Vaillant del 1963 oppure al terremoto del Friuli del 1976, vediamo che lì il problema era il soccorso alla popolazione che veniva portato avanti un po' in maniera estemporanea ovviamente dai locali che venivano colpiti e prevalentemente dall'esercito e dai vigili del fuoco. Ovviamente questo adesso è molto cambiato grazie proprio alla lungimiranza di Zamberletti. Negli anni Ottanta appunto ci fu uno dei tanti momenti in cui i tremori diventarono un pochettino più importanti e proprio appunto Zamberletti che a quei tempi stava costruendo la protezione civile, fece affluire all'Aquila quello che si usava una volta, cioè le roulotte e poi anche i treni con le cucciette o i vagoni letto. Proprio all'Aquila con il terremoto del 2009 la macchina molto complessa della protezione civile ha raggiunto la sua massima espressione organizzativa. Del Sistema Nazionale di Protezione Civile fanno parte tantissime forze in campo che vanno sia dagli istituti scientifici che poi sono quelli che si preoccupano di più di fare previsione fino a chi poi operativo nelle emergenze quindi Vigi del Fuoco ma anche esercito così come tantissimi volontari organizzati così come quello che può essere l'NGV per lo studio in caso di eventi sismici di cosa è accaduto su quel territorio e così via. Complesso quindi anche coordinare tantissime forze in campo e quindi sono state create tutta una serie di strutture tra cui ricordiamo nel 2009 qua l'Aquila forse è stato l'esempio più grande la DICOMAC che era proprio la direzione di comando e controllo che